Siamo con Franco Palma, un ritorno importante per il quarto che in un momento un po' difficile rispetto alle passate stagioni nelle quali sei stato protagonista aveva bisogno del tuo aiuto. Sì, ritorno al mio paese, sono felicissimo, qui a quarto ho vissuto i momenti stupendi, momenti di vittorie e ripeto sono contento di tornare qui a far parte di questo gruppo. Ho trovato sinceramente un buon gruppo, con buonissimi giocatori e speriamo di riprenderci al più presto. Arrivato anche Gaveglia, il mister ha deciso proprio di rinforzarsi, di attrarre un po' le persone di fiducia che lo avevano portato ai grandi successi anche delle ultime due stagioni. Pensi che la situazione si possa risollevare e uscire fuori da questo momento e anche da questa posizione di classifica un po' difficile? Beh, sinceramente ci sono tutte le carte in regola. Io ho visto nella squadra motivazione e quindi credo che nel calcio sia la cosa più importante, la motivazione è quella che ti fa andare avanti. In queste categorie conta soprattutto la motivazione e la determinazione. Se noi cammineremo a testa bassa, non guardandoci né avanti né indietro e pensando partire dopo partita, io credo che il quarto possa togliersi belle soddisfazioni. Domani c'è il volo, è una partita non facile perché il volo ogni anno fa sempre una squadra un po' rocciosa, difficile da affrontare e domani come la vedi? Domani è una gran bella partita, c'è dall'altro lato il volo guidato da un amico che è Ivan De Michele che sa il fatto suo, troveremo sicuramente una squadra determinata e pronta, che sta bene fisicamente, che ha tante soluzioni anche in vista del mercato che si è aperto, ha ampliato la rosa e diversificato anche i ruoli tecnici, quindi ha tante soluzioni. Sicuramente noi dovremmo fare una partita molto, ma molto accorta e sfruttare al meglio le occasioni che ci verranno date. Quanto ha contato il rapporto con mister Amorosetti nella tua scelta? Ciro oramai lo conosco da diversi anni, c'è anche un legame affettivo oltre a quello calcistico, sinceramente ritornare è stato anche soprattutto merito suo, ma ritorno anche io nel mio paese e quindi sono contento anche e soprattutto per questo.